Giuseppe, la prima cosa che ti devo rimproverare è che tu hai gridato viva solo Induro nella speciale. Io sono rimasta veramente male di questa cosa perché l'hai gridato solo per Enzo che è stato felicissimo. Ho visto solo lui e di conseguenza sei stato indelicato. Va bene, la prossima volta cercherò di rimediare. Senti, com'è andata? Oggi non sei molto soddisfatto. No, non molto, perché al trentesimo chilometro della prima speciale mi sono perso e non sapevo più dove ero e con il GPS sono rientrato facendo delle creste di montagna. Ah, proprio perso di brutto? Sì, sì, proprio non sapevo, non vedevo, mi sono guardato in giro, non c'era nessuno. Stavi viaggiando da solo? Sì, da solo, da solo perché ero in questa quattro e poi dopo quando sono riuscito a rientrare dove eravate voi appostati a fare le foto e allora dopo sono ripartito. A quel punto sapevi dove andare? Sì, sì. Senti, invece fino ad oggi era data bene? Sì, sì, fino ad oggi è abbastanza bene. È il primo errore, dai, in cinque giorni? Eh, no, ne ho fatto uno il primo giorno che mi ha penalizzato, poi tutti i giorni sono sempre andato abbastanza bene. Ti piace comunque il rally? Sì, molto, moltissimo. Bene, grazie mille. Prego. Ciao.